ecco il gruppo letto a mandla è un gruppo letto che viene realizzato in legno così come lo vediamo nella versione fashion wood può essere poi è un legno di rover che può essere poi laccato a por aperto o può essere poi anche realizzato nella gamma di colori laccati opachi in termini di collezione abbiamo il comò da 140 centimetri il comodino a due cassetti da 60 centimetri e poi sulla stesso impianto del comodino abbiamo la versione settimanale con uno sviluppo in altezza maggiore in termini di forme diciamo è caratterizzato da forme curve lo vediamo qui viene sul comò quindi c'è questo perimetro posteriore e laterale curvo che viene poi lavorato con taglio inclinato e va a creare diciamo l'incavo che funge da maniglia dicevamo esterno completamente in legno all'interno come tutti i comò moderni è un laminato un laminato testurizzato di buona qualità con guide quadro a scomparsa freni di fine corsa e va notato che è un comò e comodini innanzitutto sollevati da terra quindi con contenimenti capacità di contenimento concreta ma anche pur non essendo dei comò e comodini minimal anche abbastanza leggeri in quanto aerei appunto sollevati da terra infine va tenuto presente lo possiamo vedere qui sul comò ma lo vediamo meglio sul comodino che sono completamente finiti posteriormente quindi sono non solo gradevoli lateralmente appunto per questa caratteristica di curve di cui parlavamo ma per quanto rare ecco che le applicazioni centrostanza sono garantite da una completa finitura posteriore gruppo letto a mandla